A Clusone i due gruppi di minoranza in Consiglio Comunale più il neoconsigliere indipendente Maurizio Trussoforgia hanno richiesto la convocazione di una seduta di Consiglio Comunale ad hoc per discutere del futuro della scuola dell'infanzia Clara Maffei. Perché questa richiesta? La richiesta trova diverse motivazioni. Una prima, tutti i cittadini hanno potuto constatare che dal mese di settembre scorso i bambini e le bambine frequentanti la scuola nell'edificio Clara Maffei non sono più lì, sono stati trasferiti in altra sede. È ovvio pensare che quindi dovessero partire i lavori di ristrutturazione e ricostruzione di quella scuola. Di fatto tutto è al pallo, nulla si muove se non sconcertanti dichiarazioni da un lato dell'amministrazione comunale e quindi dell'assessore Carlo Caffi in Consiglio Comunale che tranquillizza rispetto a quello che può essere un ipotetico inizio dei lavori. Dall'altra invece i soggetti attuatori che sono cioè i soggetti proponenti i tre piani integrati Villa Gaia piuttosto che Canossiane o Suori Olandesi che attraverso il presidente del consorzio l'ingegner Balduzzi fa dichiarazioni molto preoccupanti circa lo stato di attuazione di quello che sono i progetti addirittura ipotizzando che la scuola dell'infanzia laddove si pensava e quindi nell'ex edificio Clara Maffei forse non si ricostruirà più. Tutto nasce da un parere espresso dalla sovrintendenza che sembra abbia creato una sorta di fermo. Di fatto però contrastano le dichiarazioni della maggioranza comunale rispetto a quelle del consorzio attuatore e tutto ciò sconcerta i cittadini e ancora primis noi che siamo i rappresentanti dei cittadini seppur in minoranza. Per cui per fare chiarezza abbiamo chiesto che venga convocato un apposito consiglio comunale. Il sindaco nei 30 giorni l'istanza è stata presentata venerdì scorso, nei 30 giorni quindi questo consiglio sarà convocato e abbiamo ovviamente chiesto per fare chiarezza in via definitiva che al consiglio comunale siano invitati il signor Benini che è stato il presidente del consiglio di amministrazione, Benini Stefano, nel quinquennio 2005-2010. L'attuale consiglio di amministrazione della Clara Maffei, il presidente del consorzio, l'ingegnere Bortolo Balduzzi, il responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Fugazza, il responsabile dell'ufficio tecnico settore urbanistica del nostro comune e naturalmente tutti i consiglieri. Solo in questo modo, mettendo a confronto le diverse posizioni, riusciremo a ricostruire l'iter di questa complicata vicenda e forse capire esattamente a che punto siamo, anche per dare risposte definitive ai cittadini che si chiedono perplessi ma cosa sta succedendo.